Faccio l'impostazione delle varie modalità operative, corrente di carica a 100 A, pratico e silenzioso. Queste sono alcune delle caratteristiche del nuovo prodotto ipido che si va ad aggiungere all'ampia gamma di inverter Payment. Sono Francesco Conforti, responsabile tecnico di Payment e con questo video vi voglio presentare il nostro nuovo inverter monofase ipido per i pianti fotovoltaici con accumulo, progettato per garantire la massima soddisfazione sia in termini di resa economica che di risparmio energetico. Anche grazie alla grande versatilità di utilizzo nelle diverse configurazioni di impianto. L'inverter presenta all'esterno un display grafico per una immediata e facile visualizzazione del funzionamento dell'impianto oltre ai comodi tasti di comando di accesso rapido al menu per la configurazione e la visualizzazione dei parametri. È disponibile in diverse taglie con una potenza massima di ingresso da 4,5 a 6 kW con una potenza nominale di uscita da 3 a 6 kW e un'efficienza massima del 97,6%. La serie ibrida presenta un modulo wifi integrato oltre alle comode dimensioni di 47 x 47 cm ed è accompagnata dalla nostra assistenza tecnica pre e post vendita per la corretta installazione del prodotto. Queste sono solo alcune delle novità introdotte da questa ampia gamma ibrida. Per maggiori informazioni contattateci.